Musica Buongiorno a tutti dal TG1, in questi giorni si sta avvolgendo il Prix Italia L'evento si svolgerà a Piazza del Ferrarese Andiamo dal nostro inviato per scoprire cosa accade in questi giorni Ragazzi, come vi avete già anticipato, non siete di Bari, ma siete qui per l'evento del Prix Italia Da quali città venite? Io vengo da Roma, è 11 anni Da Bari è tutto, linea allo studio Allora, ti sei divertita a fare la conduttrice del TG1? Un sacco, perché io lo vedo spesso e appunto mi piacerebbe anche farlo da grande Mi sono immedesimata un po' in quello che fanno ogni giorno i conduttori Questa esperienza è stata bella e quindi spero di riviverla Allora hai fatto la cameraman del TG1? Sì, è stata fantastica, non me l'aspettavo È stata un'esperienza fantastica e indimenticabile Mi ha colpito molto questo mondo parallelo che noi vediamo in tv Non l'avevo mai provato e invece ora riesco a riuscire a riprendere Ho imparato lo Zoom Grazie, per ora è tutto Buon pomeriggio dal TG1